vi sono mancato intanto state bene avete maniata tutta posta eccoci qua questa sera come promesso essendo domani lunedì giorno di lavoro essendoci già delle manifestazioni ufficiali bene noi tarda ora per pochi non per tutti faremo un punto di carattere storiografico su un avvenimento estremamente importante l'undici aprile 1945 veniva liberata la città di carrara ma spiegheremo meglio il concetto perché l'undici aprile 1945 gli americani che avevano già giorno prima liberato massa scesero passando da bergio la maggiore su bergio la foscalina e da bergio la foscalina scendendo e cominciando l'entrata in città dalla zona del ponte di ferro giù giù trovando una città che era già stata liberata dalle formazioni partigiane che come convenuto erano scese in città liberandola e consegnandola pulita e sgombra agli alleati rimanevano delle sacche di opposizione e resistenza tedesca nella zona di castelpoggio nella zona di sorgnano su cui dirò qualcosa di più e nella zona di fontia ma sostanzialmente la parte della città delle cave delle colline venne liberata tra l'undici e il dodici poi avenza e poi marina completando la liberazione del nostro territorio dall'occupazione nazifascista che era durata dal 8 9 settembre 1943 al 11 12 e anche 13 di aprile 1945 naturalmente noi abbiamo tramite le immagini di quella giornata una giornata festosa con una popolazione che scende in strada e che abbraccia questi strani americani i filippini che in realtà erano i nippo americani molti soldati colorate della buffalo i neri perché noi siamo gente per bene non ci piacciono gli infingimenti del politico di correct anzi l'entusiasmo con cui la città ricevette questi virgolette americani e naturalmente loro ufficiali bianchi e gli altri soldati americani fu tale da essere poi ricordata nel cuore di molti come si è arrivati alla liberazione anche su questo ci sono tutta una serie di piccole polemichette e queste piccole polemichette sono cose che lasciano il tempo che trovano per cui non sappiamo che dall'inverno 44 dal proclama di alexander la situazione si era in qualche misura immobilizzata e la linea gotica tracciata dai nostri posti io la spiegherò bene come era organizzata fino arrivare alla costiera adriatica era un punto certo del sistema difensivo costruito nei mesi precedenti dalla tot dall'organizzazione tot e naturalmente dall'esercito invasore ma l'estate del 44 era stato anche l'anno terribile l'anno delle stragi l'anno delle peggiori ripercussioni contro le popolazioni civili per cui oggi vedendo quello che succede ancora quello che succede in ucraina ma in tanti altri paesi sui quali non ci sono i riflettori dell'interesse dell'occidente altri massacri di civili di donne e bambini comprendiamo che le ragioni disgustose della guerra sono collegate a un'idea disgustosa dell'economia del capitale finanziario di un mondo dove noi gente normale siamo ancora considerati 80 anni dopo carne da macello il punto quindi della memoria del ricordo è quello di far capire ai ragazzi di oggi a quelli che vivono una loro giovinezza tutto sommato felice serena che quei ragazzi della loro età che ormai quasi 80 anni fa presero le armi per un'idea che non era concreta compiuta perché erano stati educati dal fascismo erano stati educati dai miti della guerra dell'aggressione del razzismo della violenza della grossolana propaganda da tutte quelle che abbiamo definito più volte anche su queste nostre righe pagine tutte quelle belle scorreggie incartate che fanno parte della mistica del fascismo che qualcuno ancora oggi vuole proporre e che si erano tradotte in morti diretti ed indiretti in città distrutte bombardate quindi il punto è noi possiamo celebrare una storia che ci è stata consegnata dai ragazzi di allora e dobbiamo difenderla per cui celebrare la liberazione della nostra città non può essere né un fatto casuale né surrettizio ed occasionale e credo che purtroppo manchi sia mancato in questi ultimi anni anche quella gioia di ricordare di ripetere l'entusiasmo di quei giorni mi piacevano tanto le bandierine tricolore col simbolo della nostra città attaccate ai filobus quando andavamo con l'elettrico è molto tempo fa quando le corse erano gratuite per il giorno della liberazione per il 25 aprile quando c'era una voglia di sentirsi attaccati a quei principi che erano principi di giustizia di uguaglianza e di pace soprattutto di pace perché non ho mai trovato in tutti i partigiani che hanno conosciuto e credetemi ne ho conosciuti tanti né un profondo senso di odio o una voglia di guerra ho sempre trovato dei ragazzi che non ti raccontavano tutto il dolore che avevano subito che era difficile tirargli fuori ogni tanto le storie più feroci che avevano visto con i loro occhi ma che cercavano di consegnarti e l'hanno fatto per decine di anni nelle scuole no modo particolare partigiani dell'ampi della fia per altri cercarti di dare la perla di questa libertà ma torniamo al fatto storico quindi l'otto di aprile le truppe alleate sul versante tirrenico sfondano le linee le prime linee della gotica e occupano montignoso e quindi montignoso è liberata l'otto di aprile ci si riorganizza ci si prepara il nove è usato per prepararsi no perché si è assaggiato nella battaglia per la liberazione di montignoso la consistenza effettiva del nemico la sua capacità di offesa il 10 da montignoso si procede a liberare massa anche su questo ci sono bellissime immagini girate dagli stessi alleati dagli stessi americani fanno parte dei combat film cercateli in rete perché sono cose che abbiamo messo negli anni sono disponibili sono belle e io da mie informazioni so che ce ne sono ancora tanti di interessanti e l'undici si procede a liberare carrara quindi scendendo nella modalità che ho detto da belgio la maggiore a belgio la foscalina giù il ponte di ferro la città e la città la trovano liberata dei partigiani tutto quello che è stata l'organizzazione resistenziale trova in questo momento un apogeo perché de facto per gran parte del 44 del 45 la città è gestita dal punto di vista amministrativo dal comitato di liberazione nazionale dalle forze dei cln dalle forze unitarie dei cln comunisti anarchici socialisti giustizia e libertà repubblicani fino a liberare a gestire nell'interesse del senso di comunità di questa città generosa di questa città che stava ospitando da mesi altre 60 mila persone sfolate da massa sfolate da spezia da altri posti che alla fine avevano ritenuto assicura la nostra città e soprattutto l'hanno sperimentata come ospitale una bellissima immagine della liberazione è questa questa scena fotografata da mignati mignati grande fotografo di massa che era sfollato a carrara come tantissimi massesi era sfollato vicino alla torretta fabbricotti e riconosce in testa al gruppo di partigiani che scendono da castelpoggio graniana una donna che è una ragazza di massa che ha lasciato anche un bellissimo diario naturalmente non pubblicato perché ormai sono troppi anni che non ci interessa più approfondire l'argomento tu fai proposte ogni tanto vengono familiari portano documenti portano diari ma di poco se ne fa perché siamo riusciti anche a burocratizzare la resistenza e qui chiudo subito la polemica perché ho promesso eh ho fatto atto di silenzio perché lei me così va bene e quindi è bellissima questa foto perché ci racconta le donne protagoniste della liberazione ma ancor meglio la foto di nardo dunchi che ci racconta le donne di carrara che l'11 luglio del 44 il 7 è cominciata la mobilitazione ma la manifestazione è stata l'11 a continuare a sbagliarsi a fare la confusione perché ormai è così no e noi siamo un popolo conservativo non conservatore ma conservativo quindi le donne del 7 luglio sì perché 7 luglio gruppi di azione di difesa della donna iniziare una mobilitazione e badate questa è un'altra grande data un'altra grande data di questa resistenza puana densa e che in parte che in parte c'è stata anche un po' espropriata perché noi ci aspettavamo di vedere per esempio un bel museo che ricordasse la strage di bergiola ed è ancora tutto lì ci aspettavamo un museo ma santa lucia che ricordasse come quel posto è stato un posto nell'orrore della guerra di civiltà e di umanità vedremo spero che si vogliano tutti indipendentemente da chi sono e chi saranno prendere degli impegni ma noi su questa memoria avremo bisogno di ragionare tanto perché ho detto più date in merito a questa liberazione di carrara e perché in effetti se montignoso è la prima linea la prima linea d'impatto della gotica le fortificazioni strutturate sono quelle che attraversano il comune di carrara da sopra castelpoggio dalla batteria per essere precisi vicino alla maestà fino arrivare al mare e chiunque oggi può farla questa presa di visione chiunque fa la biciclettata al batilana sulla via del muraglione capisce che il muraglione altro non è che una grandissima muraglia di cemento armato pensata per la difesa anti car con il becco se guardate bene l'autentico muraglione che arrivava fino al mare ormai è crollato qualche anno fa l'ultimo pezzo zona marinella di questo muraglione sottomesso alle tempeste a questo quadrante tempestoso il più tempestoso quadrante della gorgona dove ci siamo anche noi è il più tempestoso in assoluto del mare mediterraneo così lo dico senza nessuna veneta polemica con chi ci vuole mettere le ventole pensateci ragionate non fate le robe a cazzo ma lasciamo perdere anche questo e dicevo questo muro aveva la funzione precisa di fermare i carri armati carri armati aiutati dai bulldozer che avrebbero fatto una un riempimento di terra si sarebbero trovati sul muro a dare la pancia più sensibile quella meno protetta cioè la pancia e quindi l'idea dei tedeschi col panzer faust era di bloccarli ma la battaglia dei giorni successivi una volta liberata anche avvense marina avvenne nella piana di luni e nella piana di luni quest'ultima battaglia che impegnò l'esercito tedesco contro l'esercito americano col giuvato dei partigiani perché per i partigiani non è finita l'undici di aprile anzi molti sono morti anche nei giorni successivi e gli stessi partigiani furono nella persona di pietreno tassinari che voglio ricordare che insieme a giomori ampeglio coppelli e tanti altri erano un nucleo operativo della garibaldi e fu lui che finita la battaglia accompagnò di là dal fiume magra le forze alleate trovando la testa di ponte giusta per attraversare e andare su spezia quindi la liberazione di carrara e anche dal punto di vista del concetto dell'area militare che non possiamo dividerla sulla base delle nostre divisioni amministrative ma è un punto fondamentale di quella che fu l'offensiva alleata per la liberazione definitiva del nostro paese noi sappiamo che le date per esempio di liberazione di altre località come pontremoli sono più di dieci giorni dopo quindi vuol dire che le forze alleate cercarono di correre lungo la fascia litoranea e occupare le città strategiche prima spezia e poi germe dove anche lì insorse la popolazione no al punto che c'è nuova e e speriamo lo dimostri anche a breve una città della resistenza qual era la struttura oltre il muraglione e sono tutti bunker so che c'è chi fa anche passeggiate per andare a visitare questi luoghi della memoria sono questi covi di mitraglie di canonceni che praticamente da fossone fonti al sorgnano castelpoggio e che vennero spesso espugnati uno per uno da partigiani estremamente arditi ricordo li nero veti che andò da solo a fare tacere una postazione di mitraglia nella zona di castelpoggio ma stiamo parlando di ragazzi stiamo parlando di persone che avevano al massimo 21 anni stiamo parlando di persone insisto che erano state educate sotto il fascismo e quindi di persone che a partire dai processi iniziati con la caduta del fascismo 25 luglio del 43 scoprirono la libertà il valore della libertà e costruirono quest'italia basata sulla democrazia sulla libertà sul rifiuto della guerra che è la nostra costituzione ricordate la presidente del consiglio è la nostra costituzione io ho orrore per quello che succede e certo non faccio parte di quelli che difendono giustificano punti però ripeto noi abbiamo una costituzione che è stata lavata nel sangue nelle lacrime del dolore di chi ha dato la vita affinché la nostra vita sia migliore e quindi noi dobbiamo essere adeguati non possiamo permetterci di derogare noi non possiamo pensare che questa costituzione come tante volte hanno provato gli altri possa essere tradita ricordo la sentenza sulla strage di bologna che dice quello che dicevamo noi 40 anni fa che scendevamo in piazza con le bandiere 40 anni fa a dire le cose che adesso una giustizia lenta dirottata affumicata da strutture dello stato che sono contrari allo stato alla costituzione alla nostra repubblica hanno provato fino alla fine basta dobbiamo riscoprire la voglia e il gusto di difendere la costituzione e i suoi valori di tornare in piazza perché la pace è una scelta operativa non può essere un talento su face buco l'esplosione di gioia di questa popolazione finalmente libera dalle angherie di fascisti e di tedeschi ma come li trattamo noi questi fascisti tedeschi una volta che anche le battaglie dei giorni della liberazione si è concluso e qui mi dispiace se mi ripeto come ogni anno e lo faccio e magari mi commuovo anche ho sempre fatto raccontare a mio padre che insieme al suo fratello tutti gli altri del gruppo dei gap di sorgnano della brigata renzo venturini fecero in quei giorni nella località ficarbola dove erano asseragliati un gruppo cospicco di tedeschi fecero una delle ultime battaglie di questi giorni dove furono fatti nella rentina di prigionieri ci furono tre tedeschi uccisi e lui stesso prese di striscio due pallottole in questa battaglia e gli fu dato l'incarico di portare su un paese dove gli americani aspettavano di portare su questi prigionieri che erano dei ragazzi spaventati erano dei ragazzi spaventati e la gente che era molto arrabbiata con i tedeschi era molto arrabbiata con i fascisti mentre lui col fucile controllava queste 30 erotte persone tedeschi sconfitti che non avevano più voglia va bene molte persone gli ingiuriavano qualcuno gli ha dato anche dei colpi e lui puntò il fucile contro i paesani e gli ha detto guai a voi e uno si arrabbiò e gli dice orla ma perché ti difende come dire è il momento della vendetta e lui disse una di quelle cose che fanno parte del nostro essere profondo della nostra cararinitudine lui disse perché dovevi far vedere che c'è a me che loro ecco questo è il senso della resistenza noi non possiamo derogare noi non possiamo derogare da questo compito di essere migliori noi non possiamo scendere al livello degli altri non possiamo accettare il tema degli altri i ragazzi che sono saliti sui monti le ragazze che sono state protagoniste della resistenza dell'emancipazione degli anni successivi non hanno mai derogato su questo punto non sono mai scese nella banalità nell'ovvio nello scontato ha sempre avuto davanti la stella la stella che stava sui beretti partigiani la nostra buona stella è l'idea di giustizia e l'idea di libertà l'idea di uguaglianza di rimuovere tutti quelli che sono gli ostacoli che impediscono la realizzazione di questo sogno cosa è oggi il nostro mondo senza questi valori abbiamo più soldi siamo più felici dobbiamo odiare gli altri dobbiamo pensare che tutto sia semplicemente un problema l'invidia la cattiveria cazzate cazzate perché dobbiamo essere migliori non lo siamo questa fase storica noi non lo siamo e allora bisogna fare in modo che queste giornate questi ricordi abbiano la forza di rimettere il punto e di ridire che il nostro compito è quello di essere migliore e allora dobbiamo raccontare le storie di queste ragazze di questi ragazzi di ormai 80 anni fa io che ho avuto il privilegio questa è una bellissima cena scusate pranzo perché essere tanti e di avere anche punti di vista politici diversi ma essere tutti insieme perché vuoi abbandonare un compagno vuoi abbandonare la compagna questo è il senso del partigenato i compagni non si abbandonano se notte se impugnete l'ultimo pensiero del comandante è lasciare qualcuno indietro e questa è una grande lezione che bisogna ritornare a praticare bene quando si ritrovavano i su prestiti sopravvissuti venivano anche dall'estero per stare assieme e io spesso c'ero era un ragazzo a volte venivo anche confuso no quando erano partiti qualche bicchieretto nei ricordi mi davano qualche gomitato a tal cosa che la vuole tanto sganciamento del sagra e da nermi a nermi pa ne son chi no e veniva ormai confuso con l'ambiente come fosse un mobile dell'arredo di questi meravigliosi partigiani e partigiani cosa volete che vi dico rischio di emozionarmi non ho voglia di starla a far lunga volte ci si fermava col memo con la francerola che fumava come in turca a me mi piaceva che la donna al fumava come usciva fuori dalla pasticceria nazionale al fumava come un turco proprio e raccontava sempre con sorriso ma perché sta gente che ha vissuto delle cose terribili dei momenti terribili non aveva negli occhi l'odio quando il memo mi ha raccontato il suo incontro con walter picco generale tedesco quello che ha impedito la distruzione di carlare perché evidentemente anche tra gli altri tra i nemici c'è qualche persona sensata e l'importante il dialogo quando vante picco torna nel 61 a carrara lui l'aspetta in piazza farina e quello che ha impedito l'evacuazione della distruzione della città si abbracciano i due nemici e chi come me non è più di primo pelo si ricorda che alla lungina anzi alle capopolari di via beccheria c'era il benzinaio dell'aral compagnia petrolifera tedesca non ce n'erano tanti in giro chissà perché valte picco rappresentava per il sud europa la compagnia petrolifera tedesca e a carrara il comune vi sfida a trovare negli ultimi 50 anni andando indietro io ci metterei anche qualcosa di più a trovare in qualche cosa che sia firmato il sindaco il consigliere l'assessore era sempre il comune di carrara come collettività come entità poi ti sapevi chi era sindaco l'assessore consigliere non c'era io 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 c'era l'insieme la qualità le intelligenze pregi e difetti ma ripeto vi sfido a trovare qualche cosa di questo genere e di capire quindi che a volte si può essere in una condizione di perdonare non di dimenticare sono tornati poi dopo anche altri nostri concittadini che soprattutto fuori hanno magari militato nelle bande nere e chi non ha commesso delle particolari atrocità non è stato nemmeno perseguito allora perché oggi questo odio che qualcuno ancora contro i partigiani contro la resistenza questa è una domanda di carattere etiche morale perché non si vuole riconoscere questo contributo perché si vuole ancora fingere che se non ci fossero stati gli alleati cosa avrebbero fatto i partigiani carrara l'ha liberato i partigiani non per la prima volta per la seconda perché la città fu già liberata il 10 11 e 9 10 11 novembre del 44 appunto da essere quasi una repubblica partigiana perché 14 settembre del 44 era stata data l'assalto alla caserma delle brigate nere le brigate nere erano scappate della città cosa ci hanno dato questi personaggi cadavere di stragi torturati cosa ci hanno dato e poi ancora andando prima parlando di personaggi dimenticati ormai dedichiamo le strade le piazze pezzi di strada anche a cicciola colonnello pagano ovvero l'architetto pagancic che si italianizza in pagano uno dei grandi protagonisti del razionalismo architettonico degli anni 30 quello che è talmente signore nell'anima che vede il progetto del suo concorrente michelucci la famosa chiesa di san giovanni dove l'autostrada dice è più bello tuo io mio lo ritiro pensate che cavalleria oggi che la gente si sbrana per fare un marciapiede essendo un architetto essendo un po su con l'età viene chiamato dal genio della marina va a spezia perché deve fare disegni cose e anche lui dà il suo piccolo contributo spezia bombardata in continuazione per cui si trasferisce a carale quando cade il fascismo la notte del 25 luglio quindi alla mattina si sa che mussolini è caduto lui in piazza o scusate in via roma in via roma mette insieme due o tre tavoli monta su questi tavoli e fa un comizio e fonda il comitato di salute pubblica memoria della rivoluzione francese e viene organizzato il primo nucleo di quello che sarà il cln di apuani poi un po di tempo dopo per sua imperizia sotto la caserma di santa caterina per andare sulla castella massa lui prende appunti su un tacuino viene rilevato è arrestato trovano anche dei nomi lo pescano e finisce in campo di concentramento dove muore se voi andate alla bocconi e la vecchia bocconi troverete una pietra di inciampo dedicata all'architetto giuseppe pagano e nella nostra città invece a san cespe che basta che la pietra agne allora diamoci da fare guardate non lo dico con nessun spirito polemico né per quelli di ora per quelli di prima né per quelli di domani basta anse un po po anse un po cominciamo a stabilire che questa parte della memoria è una memoria che deve appartenere alla città e soprattutto i valori della resistenza debbano appartenere alla città e ognuno ha raccontato e racconterà belle storie a me se vi è piaciuto domani fare una passeggiata non lo so siamo tutti impegnati nella banalità della vita però l'importante è avere tutti insieme e vedo cavolo che siete tanti come tempi d'oro l'importante assieme ricordare la città è libera la città respira la città progetta se stessa la città si pulisce dalle ombre dal fango del fascismo e costruirà una democrazia una libertà è un mondo più giusto per tutti non la voglio fare lunga grazie grazie e poi continueremo a fare un po di lezioni di storia online perché altro naturalmente un po solo besos viva la resistenza